Importante incontro ad Alghero tra il sindaco Mario Conoci e l'assessore dell'agricoltura della regione autonoma della Sardegna Gabriella Murgia, il presidente del consiglio regionale Michele Paes, gli assessori Giorgio Avaccaro e Andrea Montis e i rappresentanti della piccola pesca algherese, il presidente dell'associazione di pesca Banchina Mille Lire Leonardo Zinchini e il vicepresidente Carmelo Mura, i vertici del parco di Porto Conte, il presidente Raimondo Tillocca, il direttore Mariano Mariani, il rappresentante del CDA Adriano Grossi, i presidenti delle commissioni ambiente e attività produttive Cristian Mulas e Monica Pulina. A Gabriella Murgia sono stati rappresentati i problemi legati alla chiusura della pesca in area marina protetta durante il periodo autunnale e in quello invernale, dal 1 ottobre al 30 marzo, che per le diverse imprese di pesca e le relative famiglie che operano a Porto Conte rappresenta un pesante danno economico. Ci siamo fatti carico dei problemi dei nostri operatori cercando insieme le soluzioni migliori per evitare gravi dei problemi che già il periodo dell'emergenza sanitaria aveva evidenziato, ha detto il sindaco Mario Conoci, e insieme abbiamo individuato un percorso condiviso per soluzioni alternative in termini di produzione del reddito per i nostri pescatori. L'assessore Gabriella Murgia ha colto l'importanza del tema e ha garantito una serie di soluzioni sulle quali c'è ampia convergenza. Per il distretto rurale, Mario Conoci, insieme al sindaco di Olmedo, Toni Faedda, ha aggiornato l'assessore sui lavori che a breve porteranno all'istituzione formale davanti al notario di quella che dovrà essere un'agenzia per lo sviluppo integrato del territorio.